Questi non sono applausi, queste sono le nostre, la cursa! Vi ringrazio completamente inedito per lei, e va bene, ascolto. Who cares? Questo è l'ambiente, non si può tutto, si? E' un passolini! E' un passolo! Guardate che ci sono il passolo, non è voi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.